Gabriele Chiurli è candidato alla presidenza della Regione Toscana per Democrazia Diretta. Perché vi candidate? Qual è la vostra politica? La nostra politica è quella di mettere la Regione Toscana di traverso a questo Stato che è succube delle lobby finanziarie multinazionali. Quindi noi ci proponiamo, partendo dalla Regione Toscana, di portare la voce dei cittadini a un cambiamento, a un ritorno all'osservanza delle leggi della Costituzione su tutto lo Stato nazionale e di smantellare questo tipo di Europa fasulla delle multinazionali che non ha niente a che vedere con la vita quotidiana dei cittadini. Possiamo collocarvi a destra, a sinistra, a centro? Ma no, noi vogliamo un tipo di democrazia dove i cittadini sono partecipi e sotto questo sistema può starci qualunque partito, di destra, di sinistra, di estrema destra, di estrema sinistra. Ad oggi vediamo che non esiste più né una mentalità di destra né di sinistra, vediamo il PD che ha come programma elettorale l'agenda di JP Morgan. Quindi votare PD oggi è come votare una banca. Qual è allora la differenza con il Movimento 5 Stelle, per esempio? La differenza con il Movimento 5 Stelle è che loro parlano, e noi le cose parliamo molto meno, ma le cose le facciamo. La legge sulla separazione bancaria, la richiesta per la nazionalizzazione delle banca d'Italia, l'uscita dell'Italia dalla moneta unica europea, oppure la denuncia che abbiamo fatto nei confronti delle più alte cariche dello Stato. Loro parlano, noi agiamo.